la partita c'è partita 5 anni fa mi ho visto che Cristiane è a me è strano che bella guardatela i titanoni eh guarda Salvatore la sicurezza dai 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 tanto tanto un po' si 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 no eh eh quando la fanno? eh ora si fanno come l'altra foto ha filmato tutta la partita il secondo prego si spegne eh eh i i i i i i i e No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu Cristiano? Eh, mo mi non lasso forte C'è cazzo di maglietta C'è cazzo di maglietta I pantaloncini guardi chiaro I poccioni nostri, di questa pocola rossa C'è cazzo di maglietta No, no, no Centenario C'è cazzo di maglietta 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 E' cazzo di maglietta La maglietta è una lunga Ma questa stiamo Non è cazzo di maglietta Ma questa stiamo Ma questa stiamo Ed è l'unica cosa più brutta le mani Ma che cosa è una stagata Ma questa stagata pretendere tutto insieme frammento ragazzi a te al sotto il corpo è andato ragazzi ragazzi non mi capite qui 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 adattare la bomba Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ho visto no, tu vai in febrale vraci 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 mongl. vraci sd www.hm ha ha quelli piccini come si deve che bello bambini come bello bambini come bello bambini come bambini come bambini come bambini come bambini come bambini ma non è in blu come bambini come bambini se era blu con la cosa bianca non era meglio ma se la moglie di baglia stai beh basta